Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 2 dicembre 2022, vediamo subito l'almanacco per iniziare insieme la rassegna stampa questa mattina, abbiamo qui sempre sulla nostra scrivania il Corriere dei Attico e il resto del Carlino, vediamo l'almanacco del giorno, vediamo che si festeggia oggi Santa Bibiana, Santa Martire, fu perseguitata lei e la sua famiglia dal governatore di Roma a Proniano, siamo sotto l'imperatore Giuliano, siamo nel III secolo dunque, alla fine dopo tante persecuzioni la Santa fu percossa con i flagelli fino alla morte, insomma fu martirizzata lei insieme poi a tutta la sua famiglia, fratelli, padre, madre per la fede a cui non volle rinunciare. Vediamo anche le previsioni del tempo, vediamo che la situazione al momento rimane stabile sulle marche, c'è una nuvolosità irregolare e qualche addensamento sui rilievi, peggiora il tempo verso sera con piogge a carattere sparso, le temperature oscilleranno tra i 5 e i 10 gradi, i 20 ispireranno con una tensione debole da est, sull'interno da ovest invece sulle coste la temperatura è ancora in calo. E a questo punto possiamo dare un'occhiata alle pagine dei giornali a partire da una notizia di sport. Vediamo infatti oggi che l'allenatore della Vis Pesaro, Sassarini, è stato esonerato. Vis, il tecnico Sassarini, intitola oggi il resto del Carlino, è stato esonerato nella notte, erano circa le 22 ieri sera quando è stata diramata la notizia. Guattieri in pole, ma i tifosi vogliono torrente, questi sarebbero i nomi dei sostituti. La decisione appunto a sorpresa alle 22 e 20 di ieri sera in corsa, ci sarebbero anche sottili, retrocesso a Pistoia e Maspero che ha allenato in Serie D. Dunque ieri sera è scoppiato il terremoto in Casavis, ma è un terremoto che era stato annunciato. David Sassarini, non è più l'allenatore, lo ha comunicato la società di via Simoncelli, con un comunicato comparso proprio ieri sui canali social alle 22 esattamente e 17. Il tecnico Spezzino paga così la sconfitta, l'ultima sconfitta dopo una serie di nove partite che sono andate male, l'ultima sconfitta con lo 0-4 contro il Gubbio e una sequenza appunto di nove partite non positive. A questo punto, anche se tutto lasciava pensare a una fiducia a tempo, almeno fino al novantesimo di Imola, la situazione è precipitata e quindi ora si attende il sostituto. Al momento la panchina della Visse è affidata al vice Renzoni, ma già comunque è aperta la corsa alla successione. Diamo un'occhiata anche agli altri titoli di sport. Seconda categoria, Santa Cecilia e Peglio hanno qualcosa in più. Nel girone B guidano Cucurano e Della Rovare con l'Arzilla unica imbattuta. Tanti gol nei due raggruppamenti. Questo è il titolo a capare, ma giriamo pagina e diamo un'occhiata anche all'articolo che riguarda il Fano Calcio e vediamo che si cerca il rinforzo nella squadra perché anche nel Fano Calcio le cose non vanno tanto bene. Alma a caccia della punta. C'è l'ipotesi Fall. Amet Fall, in uscita dal porto d'Ascoli, si tratta di un 31enne attaccante senegalese, aspetta un'offerta dal Fano. Aperto dunque il mercato dei dilettanti e fanno subito al lavoro. La società starebbe cercando un attaccante per sostituire Padovani e un centrocampista per rinforzare il centrocampo che possa costituire anche una valida alternativa a Nappo. Vediamo anche il basket. VL Trento parla italiano coraggioso. La Dolomiti Energia, la squadra di Trento, è la prossima avversaria dei pesaresi. Ha uno straniero in meno e dà molto spazio al talento di spagnolo, Flaccadori e Udom. Sarà uno scontro diretto che più non si può, quello di domenica prossima a Pesaro, dove appunto Pesaro e Trento sono appaiate a quota 10 in classifica alle spalle del poker in testa in Serie A. Insomma una posizione abbastanza soddisfacente per il basket pesarese. Ed ora chiudiamo le pagine di sport, diamo un'occhiata invece alle prime pagine dei quotidiani a partire dal resto del Carlino sulla pagina di Fano. Assegnatari, Erap, Morosi, Condomini, Algelo. Ci sono due articoli che sono differenti oggi sui giornali ma che trattano lo stesso tema. Qui vediamo i problemi di un condominio in via Marche a Fano. Mentre sul Corriere Adriatico vediamo che l'apertura su Fano è dedicata, vediamo di rintracciarla, è dedicata ad un condominio che è invece a Bellocchi, anzi sono quattro i condomini a Bellocchi. Dunque condomini che hanno problemi diciamo subito. Uno parla di Bellocchi, l'altro parla di via Marche al Poderino a Fano. Cominciamo con quest'ultimo e vediamo che cosa accade. In via Marche c'è chi non paga le bollette e così ci rimette anche chi è regolare. Si vede che l'impianto è centralizzato. Lo sfogo è di un'anziana di parecchi anni che ha sempre pagato la bolletta ma in questo caso fa le spese di chi non paga e quindi sfoga il suo malcontento. In 14 sgarrano, ha detto, e noi siamo al freddo. Tutti gli anni ci accendevano il riscaldamento al massimo il primo di novembre. Quest'anno invece siamo rimasti tutti al freddo. Mio marito è cieco e ha preso l'influenza. Io sono appena rientrata in casa dopo un ricovero di 10 mesi e ho già preso il raffreddolo. Il ricovero di 10 mesi è molto molto importante. Quindi la signora non è che sta bene in salute. Facessero in fretta, dice, a riattivare il riscaldamento perché stare al freddo di questi tempi quando la temperatura. Abbiamo visto la minima che ormai arriva a 10 gradi è calata sensibilmente. È disperata dunque Augusta Moncini di 80 anni, residente al Civico 10 di Via Marca, uno dei 24 appartamenti dell'Erap che vengono lasciati al freddo. E questo è quanto accade appunto al Poderino. Vediamo invece quello che accade a Bellocchi. A Bellocchi invece non è il problema del riscaldamento ma è stata scattata il taglio dell'acqua. Non c'è più acqua potabile. E questo perché alcuni condomini non pagano. Ne fanno le spese però anche chi paga. Parte una denuncia contro l'Erap. Iniziativa di alcuni inquilini. Noi paghiamo le bollette ma ci tolgono il servizio come ai morosi. Alcuni inquilini di quattro condomini popolari a Fano hanno sporto denuncia contro l'Erap per tutelarsi dopo un nuovo distacco di acqua potabile. Culmina dunque alle carte bollate una vicenda che si protrae da una decina d'anni. Non è una cosa proprio recentissima però in questo momento è esplosa. Un lasso di tempo in cui si sarebbero verificati altri episodi analoghi per almeno 3-4 volte denunciano. Questi sono i condomini. Vediamo un attimo se riesce. Ecco sono i condomini che sono oggetto di questa protesta nella zona di Bellocchi. Veniamo alle altre notizie. A fondo pagina sul resto del Carlino ci sono due notizie che sono state oggetto di due conferenze stampa nella giornata di ieri. Qui si annuncia l'allestimento di una mostra importante dedicata a Pierpaolo Pasolini. Verrà inaugurata domani 3 dicembre a Palazzo Montevecchio. Una delle più belle nobili residenze nobiliari della Fano del Seicento. Peccato che versa in una situazione di degrado indicibile. Però c'è una zona che è stata così almeno restaurata, ristrutturata da due giovani che hanno costituito l'associazione fabbrica urbana. E proprio all'interno di questi locali verrà allestita una mostra di cento manifesti che sono stati dedicati a Pasolini da parte degli studenti che frequentano l'Accademia di Belle Arti di Roma. E questo insomma è stata una idea di Gianluca Proietti. Di Gianluca Proietti, appunto anche giovani di fabbrica urbana, Gianluca Proietti era un insegnante dell'Accademia di Belle Arti di Roma che ora insegna ad Urbino. Cento mille manifesti d'autore, questo è un po' il titolo della manifestazione e vediamo come molti molti giovani artistici hanno veramente espresso la loro fantasia, la loro creatività in onore di Pasolini. Hanno fatto manifesti con composizioni grafiche, con composizioni fotografiche, insomma hanno usato molti modi di espressione per evidenziare la provocazione, le idee sempre sempre avanti di Per Paolo Pasolini. L'altra iniziativa, oggetto di una conferenza stampa, invece parla della Fondazione Caripano. La Fondazione sensibilizzare gli allievi sull'ambiente. sappiamo che l'ambiente è uno dei settori di interesse statutario della Fondazione Caripano, in cui ogni anno la Fondazione stessa riversa parte dei fondi a sua disposizione. Ebbene, quest'anno oltre a una serie di incontri, il prossimo si terrà proprio oggi pomeriggio alle ore 17.30 in penacoteca sul tema terra e clima, ebbene ha introdotto un nuovo progetto in collaborazione con l'Argonauta. Si tratta di sensibilizzare gli studenti di tutte le scuole di ordine grado, non solo di Fanno, ma anche del territorio di competenza della Fondazione, su temi ambientali. E si propongono visite a siti ambientali di grande interesse, come lo stagno urbano, il lago vicini, la casa Archilei, l'oasi faunistica, l'oasi floristica, scusate, di Baia del Re. Per invitare i ragazzi a visitare questi luoghi, addirittura si è fatta una collaborazione in intesa con l'AMI, che metterà a disposizione i mezzi di trasporto gratuitamente. Quindi veramente tutto è stato agevolato per coinvolgere i ragazzi su temi ambientali. Giriamo la pagina, vediamo ancora un aggiornamento sulla situazione di Anastasia. Spunta una vocale di Anastasia, una vocale, un sonoro nel Whatsapp del telefonino della ragazza che si era messa in contatto con la mamma, esponendo la sua volontà di far sì che il bambino tornasse in Ucraina, il figlioletto Adam di due anni e mezzo. Una settimana prima di essere uccisa, Anastasia aveva inviato un messaggio a Elina, la mamma, in cui diceva che voleva mandare il figlio in Ucraina, temeva per il suo bambino, temeva che gli facesse del male il padre Mustafa, col quale era in rotta, col quale era in aperta lite e appunto si stava separando. L'avvocato Roberta Giuliacci, l'avvocato appunto che si interessa del caso, ha detto che questa scoperta dimostra chiaramente la volontà di Anastasia e prove il legame del bimbo con la nonna e con il suo paese di origine. È lì che con la famiglia materna Adam dovrebbe tornare. Del resto la famiglia del padre di Mustafa non ha fatto alcuna richiesta per ricevere in custodia il bambino. Ancora il giudice non si è espresso, ma ovviamente l'indirizzo dovrebbe essere questo, il bambino ritorni in Ucraina. E qui c'è un aggiornamento invece interessante per quanto riguarda il completamento degli interquartieri. Si temeva che con il no del Ministero a una proroga di presentazione del progetto, proroga in merito a una scadenza tassativa del 31 dicembre prossimo, ormai i fondi fossero perduti, i 20 milioni fossero perduti. Ma leggendo quest'articolo sembra che così non è. Ci sono ancora speranze di recuperare quei soldi. C'è stata mercoledì scorso una riunione di maggioranza che si è tenuta nella sala della Concordia, in titola Anna Marchetti oggi sul resto del Carlino. Variante ok della soprintendenza ora corsa a recuperare i fondi persi. La soprintendenza, dopo aver dato delle prescrizioni al progetto del completamento degli interquartieri, ora dopo che l'amministrazione comunale si è adeguata a quanto richiesto, ha dato un parere positivo. Inoltre c'è la possibilità che il finanziamento fanese possa rientrare in una delle casistiche, quelle che riguardano progetti superiori ai 25 milioni di euro, previste per la concessione della proroga, che comunque non dovrebbe superare i sei mesi e quindi andare oltre al giugno del 2023. Insomma l'amministrazione comunale cerca di recuperare quello che sembrava definitivamente perduto e quindi persiste nel completamento degli interquartieri. E persiste invece nel presentare la propria opposizione il Comitato contro il biodigestore a difesa del territorio anche dei comuni di Terre Roveresche, Mondavio e Fraterosa, dove dovrebbe essere appunto localizzato il biodigestore che è stato annunciato dalla ditta che intende realizzarlo. Il Comitato insiste e insorge la Regione, tutela i territori e chiede alla Regione di affiancarsi alla protesta che sorge spontanea appunto dai cittadini di quei territori che non vogliono nel loro ambito territoriale la realizzazione di questo stabilimento. Ad Urbino sono aumentate, questa è una bella notizia per gli studenti universitari, sono aumentate le borse di studio per gli universitari. L'ERDIS ha reso noto le cifre. Urbino ha ricevuto 11 milioni di euro per i contributi agli studenti, Ancona un po' meno, 8 milioni. In testa c'è Camerino che può erogare 5.800 euro a testa in assegno ovviamente, mentre Urbino è seconda con 4.900. Sono circa 600 i beneficiari in più rispetto all'anno scorso e oltre 30 milioni di euro già stanziati. L'ente regionale per il diritto allo studio, appunto l'ERDIS, ha pubblicato le graduatorie definitive per l'assegnazione delle borse di studio, borse di studio importanti per consentire a tutti gli studenti, anche coloro che non hanno grandi disponibilità economiche, di laurearsi e quindi di programmarsi un futuro migliore di quello che potrebbero appunto sperare. E veniamo anche alle atmosfere natalizie. Da domani le vie dei presepi a Urbino per scoprire l'anima della città. Bello questo titolo. La 22esima edizione, a cura della Proloco, propone anche un esemplare meccanico sulla Roma dell'Ottocento. Sono tre i luoghi principali per percorrere questo bellissimo itinerario. ...luoghi che ospiteranno pezzi di maggior rilievo, visitabili con un biglietto unico. In via Barocci, l'oratorio delle Cinque Piaghe, e quello di San Giuseppe in piazza Rinascimento, oltre alla chiesa di San Domenico. Questi sono i luoghi, la chiesa di San Domenico e i due oratori. I principali punti espositivi sono la chiesa di San Domenico, che ospiterà il nucleo più cospicuo delle vie dei presepi, con opere di ogni tipo. Si va dai presepi tradizionali e alle grandi statue del Novecento, alle natività estrose e ad altre intagliate da sagome giganti. Insomma, ce n'è di tutte le dimensioni, di tutte le ambientazioni, di tutte le particolarità. E chi ama il presepio potrà veramente essere suggestionato dalla creatività di questi artigiani. Caro ospedale e affossombrone, il Comitato per la riapertura non si fida di Salta Martini, dell'assessore alla sanità. Dal confronto tra Comune e Assessore regionale c'è stata una vera e propria doccia fredda. Sull'ospedale il Comune da che parte sta, chiede il Comitato. E siamo proprio sicuri che dalla videoconferenza, che si è svolta appunto con l'assessore regionale e Salta Martini, siano venute fuori delle novità sostanziali. Ebbene, non sembra proprio e quindi il Comitato per la sanità di Fossombrone si pone sulla difensiva. Qualche notizia che riguarda Pesaro sul resto del Carlino. Vediamo un articolo di cronaca. Tordi catturati in natura, un maxigiro di affari. Ebbene, gli inquirenti, le forze dell'ordine hanno trovato un giro abusivo di catture di animali, in modo particolare i tordi, che venivano venduti per 200 euro l'uno. E si tratta di un'organizzazione molto molto estesa nel territorio e molto importante. Pensate, venivano catturati 600 esemplari al giorno e il guadagno di questa organizzazione era piuttosto ingente, 120 mila euro al giorno. Insomma, mettendo insieme giorno dopo giorno si capisce quanto in un mese questi malviventi riuscivano a ricavare. Tra loro c'è anche un commerciante del settore di Urbino. Gli sono stati trovati 400 tordi ora sotto sequesto, mentre altre 5 persone non sono della nostra provincia, sono del Ravennate. Dello Stato, la fauna infatti è un patrimonio dello Stato e poi anche di ricettazione, alterazione di sigilli di Stato, uccellagione e detenzione illegale di fauna selvatica. Dunque un successo per quanto riguarda la tutela dell'ambiente da parte degli inquirenti. E poi qui invece vediamo che c'è una precisazione di Vincenzo Caputo che è il direttore zooprofilattico dell'istituto appunto zooprofilattico che risponde ai dubbi e alle perplessità dei residenti che temevano, dei residenti della Torraccia, che temevano degli effetti nocivi di natura ambientale per la realizzazione di un laboratorio in ambito urbano con provette e manipolazioni genetiche. In realtà ha detto Caputo non ci sarà alcuna manipolazione, noi siamo soltanto un istituto che farà delle analisi. Per esempio se nel corso di un controllo in autostrada viene trovato un tir con animali infetti e bene viene portata una provetta nel nostro laboratorio e noi certifichiamo la sanità o meno appunto di questi animali. Bovini infetti li porteremo nel nostro centro, siamo lo spallanzani degli animali, ha detto appunto il tecnico. E qua una notizia di cronaca, ubriaca dopo lo schianto, bevevo per il dolore, ha detto. Si tratta di una cameriera di 24 anni che è stata scoperta con l'alcol test, con 1,6 di alcol in corpo. Lei si discolpa, diceva sono andata a sbattere, mi faceva male il naso, avevo del sangue e quindi per calmare il dolore ho bevuto 4 bicchierini di vodka. Insomma la situazione però non ha insomma diminuito la colpevolezza di questa guidatrice al volante, insomma che è stata trovata con un tasso alcolico superiore al consentito. Invece qui un giovane marocchino è stato scoperto mentre rubava un giubbotto in un negozio. Addirittura ha reagito all'intimidazione di aprire il suo giubbotto dove sotto appunto aveva quello rubato, ha reagito e quindi è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Dovrà rispondere di rapina impropria e di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Infatti durante la perquisizione sono stati trovati indosso una certa quantità di stupefacente. Riciclo è differenziata, la provincia vola alto, il report di Marche Multiservizi, eccolo qua, vediamo anche la foto del AD di Marche Multiservizi. Sui rifiuti siamo al 58% per il primo, 55 media nazionale, è al 73,5% per la seconda, ovvero 60% della media nazionale. Questo è un po' il bilancio della azienda della raccolta dei rifiuti di Pesaro. Diamo un'occhiata ora anche alla pagina del Corriere Adriatico, abbiamo visto l'apertura. A fondo pagina abbiamo l'articolo che riguarda Anastasia, ascoltata la nonna e la zia del bimbo, appunto la sorella della mamma di Anastasia, il Tribunale per i minori valuta la presa in carico del figlio appunto di questa vittima di femminicidio. Un altro articolo in apertura nella seconda pagina del Corriere Adriatico evidenzia un dibattito che c'è stato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale quando la Lega con una interpellanza ha voluto sapere quale sarà l'atteggiamento dell'amministrazione comunale in merito alla tutela della costa, in modo particolare di quel tratto ancora scoperto davanti ai bagni Carlo. Scogliere un iter di sette anni, e beh, c'è stato del tempo perché questa concessione soffrisse appunto della erosione, provocata da una realizzazione parziale di scogliere che avendo lasciato aperto un vuoto tra l'ultima scogliera e la diga foranea dove c'è la passeggiata dell'Isipo al porto di Fano, ha qui incuneato sempre di più il gioco delle correnti, provocando una erosione molto molto pronunciata della spiaggia appunto dei bagni Carlo. Ha risposto a una interpellanza della Lega il vice sindaco Cristian Fanesi nella giornata di ieri, affermando che dopo ripetuti solleciti la ditta che deve realizzare i lavori, l'appalto è stato consegnato il primo luglio scorso, dopo diversi solleciti la ditta è stata sollecitata, probabilmente si giungerà alla revoca del contratto ed è stata anche riscossa, si sta anche procedendo per la riscossione della fideiussione, il fatto poi è stato segnalato all'Istituto Anticorruzione a livello nazionale. Siamo in conclusione alla nostra rassegna stampa, vediamo soltanto l'articolo di fondo che riguarda la mostra dei manifesti di Pierpaolo Pasolini che verrà inaugurata domani a Palazzo Montevecchio a Fano. E questo è tutto per il momento, Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Questo è tutto per il momento, buona giornata, a risentirci.